Uè ciccio, eh? Sporchiamo i pantaloni? E via, andiamo a... Ho fatto apposta? Non hai fatto apposta, ma il danno è fatto. Allora... Il danno, il danno, il danno casomai aver comprato questi pantaloni di merda casomai. Allora tieni questi tentacoli adesi e contigui al tuo corpicino. Tu fai altrettanto, per favore. Io faccio altrettanto perché so dove mettermi. Anche tu, per favore, puoi stare... Cioè, lui te la prendi con me, vuoi vedere che sei bella una pianta grassa vera e propria. Allora, questo è il mio sedile? Sì. Questo è il mio spazio. E allora? E allora mi rasenti col piede lo spazio, ti dà fastidio. Questo è il mio sedile? E questo è il mio spazio? Non è che me lo rasenti, ci sei proprio dentro? Che poi non ti ho detto nulla. No, lo spazio... E allora che? Allora mi metto così. Esageriamo. Guarda, mi adatto. Bene. Uè, uè, uè. Ognuno ha il suo spazio, se no una mucchiata. Pursa a te. Ognuno ha il suo spazio, se no una mucchiata. Ognuno ha il suo spazio, se no una mucchiata.